La protesta ha già superato le 2000 firme e oggi è il giorno in cui Chiava rialza la voce tra commissioni consigliari sulle barriere antirumore e un consiglio comunale la cui prima trattazione all'ordine del giorno sarà proprio sul progetto di ferrovie. Il piano d'opera presentato dall'azienda preoccupa i frontisti e di riflesso l'intero territorio. I documenti mostrano una barriera lunga a quasi 4 km e paratie alte in alcuni casi fino a 7,61 metri. I pannelli, performanti e di un certo peso, dovranno essere sostenuti da micropali, cosa che necessita di scavi nel sottosuolo di molte proprietà per le quali è stato pubblicato l'avviso di esproprio e l'utilizzo di aree comunali per consentire i lavori. A seguire alcuni frontisti, l'associazione Onda Ligure, nata nel 2022, è attenta alle problematiche ambientali ed idriche. Abbiamo presentato delle osservazioni, sono state inviate. Quali sono le cose più preoccupanti di questo progetto? Sicuramente è un progetto impattante sotto vari profili, ma soprattutto sulla valutazione di impatto ambientale. Riteniamo che vi siano posizioni da parte di cittadini gravemente lesive del loro diritto di proprietà e che si possa attuare questa direttiva anche attraverso altri accorgimenti tecnici. Le stesse ferroviere dello Stato poi in una nota hanno appunto detto che la soluzione tecnica poteva essere in qualche maniera rivista. Oggi dunque si riuniranno le commissioni consigliari alle 16.30 in municipio, poi sarà la volta del Consiglio alle 19.00. Entrambi i momenti sono aperti al pubblico. Cittadini, frontisti e componenti del Comitato si sono dati appuntamento per seguire in prima persona il dibattito. Alle 21.00 sarà la volta della diretta TV su Telepace con ospiti in studio e un collegamento dalla sala consigliare per raccogliere la voce degli amministratori e dell'agente.